Io in realtà non avevo nessuna intenzione di fare un video, anzi mi sto un po' stufando di fare video perché non ho più idee, mi sono un po' stancata, mi sono così detta che forse devo metterli a riposo per un tempo un po' lungo e evitare di farli. Bisogna sempre smettere un po' prima di essere sazi dicono gli orientali da tavola. E ovviamente da tempo di fare un video sugli uomini quando vengono, che venivano.